Ciao ragazzi, oggi ho per voi 7 segreti per diventare un agente immobiliare di successo. Primo segreto, conoscenza profonda del mercato. Diventa un esperto del mercato immobiliare perché questo ti permetterà di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. Secondo segreto, networking strategico. Costruire la tua rete di contatti e relazioni è cruciale. Terzo segreto, comunicazione vincente. Impara a sviluppare le abilità di comunicazione efficace. Quarto segreto, presenza online impattante. Il mondo digitale oggi è la chiave. Quinto segreto, tecniche di marketing efficaci. Impara le migliori tecniche di marketing immobiliari e applicate. Sesto segreto, impegno costante. Le sfide non mancheranno, le difficoltà arriveranno, ma il tuo impegno costante e la tua dedizione faranno tutta la differenza del mondo. Settimo e l'ultimo segreto, apprendimento continuo. Il settore immobiliare evolve rapidamente ma la tua fame di conoscenze e competenze ti permetterà di essere sempre al passo con i tempi. Grazie per aver visto questo video. Se ti è piaciuto metti un like, un commento oppure condividilo con i tuoi amici. A presto!